bentornati sul canale non aperte questo blog io sono il gonz e oggi siamo qua a parlare di cold ground distribuito dalla tetro video casa di distribuzione di film horror anglo italiana di recente nascita tra l'altro penso che abbiano circa un anno e distribuiscono dei film veramente veramente inquietanti mi sono arrivati your flash your course e col ground ho visto col ground poi vedrò il flash il corso e vi farò la recensione anche di quello parliamo di cold ground terreno freddo terra fredda luogo freddo boh intanto vi voglio dire una cosa di cold ground guardate che copertina con l'illustrazione veramente veramente retro è super retro e lo fa sembrare un film degli anni 70 ma il film non è degli anni 70 anzi è piuttosto recente è un film di fabien del l'age del 2017 allora è un fan footage e voi direte che palla un altro fan footage ok però è un fan footage che secondo me di più incarna lo spirito diciamo la quasi perfezione che raggiunse l'intramontabile the blairwich project perché diciamolo alla fine the blairwich project è un cult c'è un cazzo da dire e vi devo dire che quando ho iniziato a vedere col ground ho pensato caspita finalmente un fan footage che mi ricorda insomma mi diverte mi incuriosisce quanto the blairwich project ormai sono passati secoli da the blairwich project comunque un fan footage che vede due giovani giornalisti giornalisti video maker diciamo con la telecamera alle prime armi sono una coppia lui e lei vogliono andare a indagare su dei fatti strani che sono accaduti sulle montagne al confine tra la svizzera la francia mi sembra insomma degli animali sono stati trovati squartati in modo strano e quindi giustamente che cosa fa uno sano di mente decide di andarla indagare ma per andarla si dovranno far accompagnare da delle guide perché la zona è veramente molto molto pericolosa è pericolosa per via del maltempo dell'inverno della neve è uno di quei posti dove tante volte scalatori o non scalatori poco esperti finisce poi che ci lasciano le penne quindi bisogna sempre andare con qualcuno molto molto esperto i due ragazzi si faranno accompagnare in queste zone e da lì papabam papabam finirà in un macello ma non vi dico nient'altro per non rovinarvi la visione vi ho già detto che come found footage trovo che sia riuscitissimo in aggiunta rispetto a The Blair Witch Project questo film fa una furbata che ho apprezzato tantissimo lo ambienta in un luogo ancora più inquietante perché è sì un bosco ma è un bosco in alta montagna quindi con neve e si rischia di morire congelati è un'ambientazione sicuramente ancora più ostile e spaventosa gli attori sono molto credibili molto bravi reggono benissimo tutta la scena tutto il film se devo proprio fare una critica lo trovo anche un errore abbastanza banale è stato applicato un effetto di pellicola rovinata che è posticcio è fatto in post produzione e non è per nulla per nulla credibile detto ciò si può tranquillamente ignorare e per il resto il film è veramente molto ben fatto un'altra piccola pecca ma che a me non risulta neanche poi così tanto fastidiosa perché mi ricorda un po il cinema degli anni 80 diciamo mostri perché ci sono dei mostri si vedono anche nella copertina quindi non è uno spoiler sono realizzati con dei materiali un po all'antica quindi sono un po pupazzosi ma più che togliere realismo mi ha fatto quasi un effetto nostalgia perché sembra proprio il cinema anni 80 quando i mostri comunque non erano perfetti e si vedeva un po che erano raffazzonati col pelo finto queste cose qua quindi in realtà a me non ha dato per nulla fastidio e li ho trovati anche abbastanza cattivi e inquietanti era veramente da tanto tempo che non che che un film non mi generava così tanta ansia insomma è un film che veramente genera tantissima ansia il buio il freddo la tenda che si muove i rumori i mostri le corse in mezzo al bosco e tante altre cose più una scena che ve la devo dire non ve la spoilero però ci sarà una scena anzi non ve la spoilero perché sennò che cazzo è ci sarà una scena un gore diciamo una scena gore che a me è piaciuta tantissimo e che mi ha angosciato allo stesso tempo mi ha disgustato quindi ci sta anche che a differenza di the bellerish project qua abbiamo anche un pochino più di di sangue ottimo film col ground consigliatissimo di tetro video vi lascio il link in descrizione per l'acquisto se il video vi è piaciuto cliccate like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video parliamo di your friend parliamo di